un buon inizio un inizio strepitoso perché qui con noi ciao laura ciao a tutti ciao ragazzi un buon inizio forza milan te lo dico subito ho trovato un milanista perché non so come mai ma nelle radio non è così facile trovare dei milanisti sono quasi tutti inter juve te cosa sei bambolina allora io dove ci sono i giocatori belli però oggi mi sono messa un po di rosso proprio in onore del milan brava 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 benissimo io non ho messo la maglietta nera perché sennò era briscola chiamata io sono palermo credo vestita di rosa però quest'anno pare che sia il napoli che va a conquistare tutto e beh è una grandissima squadra se lo meritano a proposito di milan quel logo che c'era in casa milan hai fatto tuo allora io ho chiamato per fare il prossimo tour ho chiamato fabio novembre che è uno dei nostri più importanti architetti designer straordinario italiani esatto e gli ho parlato di quello che pensavo essere il punto principale di tutto quello che vedrete anche voi piano piano e che è la voglia di andare avanti e non e quindi non fermarsi e godere solo del passato senza dimenticarlo però volevo proprio far vedere trovare un simbolo che fosse una spinta verso il futuro dopo mentre io cercavo delle tra le sue cose su internet ho visto che in casa milan c'è questo atleta rosso di un materiale credo che sia resina particolare che praticamente inizia la corsa ma il diavoletto no 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 non il simbolo dopo te lo faccio vedere su internet andate a vedere casa milan ma sono stato a casa milan è quello gigante nella gigante nella che è incastrato nella colonna ah ho capito capito sì 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 le ho detto scusami io questo cioè sono io basta mi fai il caschetto su quella lo facciamo blu e andiamo hai fatto così l'ho fatto così e l'ho attaccato l'ho attaccato in una invece che una colonna è incastrato in una clessidra perché io volevo che questa donna che poi sono io raccontasse i tre tempi della vita quindi il passato il presente il futuro se quindi mostrasse che non ha che non rinnegava il passato che nel presente si sente pronta a ricominciare e non ha paura del futuro questo quello che vorrei essere non è che tutti i giorni mi sento così forte uno ci pensa poi sei bionica perché parliamo di dieci 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 il 27 di febbraio hai fatto un tour dove hai fatto le prime tue dieci canzoni in quel di new york sì le seconde insomma dieci seconda decade a madrid e poi in conclusione in quel di milano ti sei preparata per sei mesi sì mi sono preparata perché non avevo mai cantato in 24 ore cambiando fuso poi anche vocalmente mi sono dovuta preparare perché viaggiare per noi che usiamo molto la voce anche voi ragazzi secca le corde vocali e in teoria appena si atterra non si dovrebbe tenere un lungo discorso o fare una cantata bella potente quindi mi sono preparata con questo foniatra e anche allenata con un allenatore e una nutrizionista che mi hanno hanno fatto proprio un programma come se fossi un atleta per prepararmi a una maratona vera perché in realtà è di fatto lo sei insomma mi piace più essere atleta che la mano va al piatto e poi la porta alla bocca però sul palco sei atleta sul palco mi preparo devo dire mio babbo ai tempi d'oro anche quando venivano i primi anni che veniva a radio bruno già mi istruiva ad essere una figlia disciplinata e a rispettare molto questo lavoro visto che lui l'ha sempre fatto da quando era piccolo e poi io ho cominciato con lui a fare piano bar quando avevo otto anni mi dava delle regole come giusto che sia perché era sia papà che datore di lavoro no quindi questa cosa a me sinceramente oggi che sono più grande mi è servita tanto devo ringraziarlo all'inizio ero un po' arrabbiata giocavi in casa per usare una metafora sportiva assolutamente anche perché sai non ci sono tanti genitori che prendono sul serio una carriera musicale a volte la osteggia assolutamente ancora oggi nonostante quando ho cominciato io non c'erano i talent in televisione così però anche adesso vedo che alcuni ragazzi mi scrivono che i genitori non credono che si possa intraprendere una carriera musicale io ti devo dire essendo anche mamma adesso quando penso a questo argomento credo che fin da piccola ho pensato che noi esseri umani siamo capaci di innamorarci e di appassionarci di più di una cosa e quindi io ho sempre avuto dei vari piani b c che non erano minori anche perché se ci pensi il mio piano b era la musica e quindi io volevo fare l'architetto perché pensavo che la musica fosse un hobby io non pensavo che da sola rolo potevo andare in televisione cioè non c'erano i social non c'erano i talent quindi avevi fatto liceo artistico e volevo fare quello perché pensavo fosse sempre difficile però io credo che stimolare le persone a provare qualcosa di profondo in tanti argomenti che possono essere non solo artistici ovviamente sia molto importante perché siamo esseri umani capaci di fare varie cose non solo una non sono d'accordo su questa cosa quindi comunque paola lei già messa il pianoforte ti ha anche corretto sì mamma mia è molto più brava di me io io ho proprio le basi mi accompagno su alcune canzoni studio diciamo le posizioni delle mani durante il covid ho fatto un po di lezioni di pianoforte ma niente lei mi ha superato alla grande ma non l'ho obbligata le abbiamo chiesto quando era piccolina se le piaceva imparare uno strumento visto che suo babbo suona dalla mattina alla sera è nel dna sì sì dal nonno il tuo babbo a te a paolo anche i fratelli di paola paola tre fratelli grandi uno si chiama olden e fa si chiama joseph in realtà però produce ed è un artista che fa musica e lei ha visto crescere e nascere delle canzoni fatte lì in casa da noi e quindi l'ha visto usare molto le programmazioni col computer suonare il piano tutti i fratelli suonano uno strumento quindi anche lei ha voluto e fini per fare l'architetto io vorrei ti giuro che io vorrei cioè lei farà quello che le pare però se dovessi scegliere io preferirei che lei facesse una cosa legata a quello anche perché dalla mattina alla sera gioca a un gioco orrendo secondo me però vabbè dove costruisce case ma i giochi di strategia ci ho giocato per anni sin city ma io amo sin city è più bello di quello che lei gioca a roblox dentro dentro roblox c'è uno che non mi ricordo come si chiama adesso perché sono dei sottogiochi e uno dove costruisce case e mi fa piacere perché ha il senso della prospettiva da quando c'ha sei anni però in tutto questo insomma vediamo cosa farà sicuramente la l'appoggerò in quello che vorrà fare vorremmo sentire una tua canzone scusa ti ho interrotto così brutalmente la voglio sentire anch'io andiamo nel 2005 come se non fosse stato mai amore mi piace molto grazie ma la vuoi annunciare tu sì allora c'è un timer allora ragazzi laura pausini radio bruno come se non fosse stato mai amore come se non fosse stato mai amore laura pausini laura ma quando noi speaker disannunciamo le canzoni hai piacere te le interrompiamo troppo presto siamo nei limiti allora mi ricordo che quando ero piccola chiamavo la radio per dedicare per registrare con la cassettina per togliere il parlato del conduttore mi ricordo che chiamavo dicevo ascolta mi puoi mettere sulla tal canzone però puoi non parlarci sopra e loro no dobbiamo parlare perché sennò la registri quindi da una parte mi fa piacere che adesso non le registrano più forse però non lo so ho ancora quella cosa un po' da boomer comunque qui stanno arrivando una spinza di mezzanelle con questa tutta la gente che è fuori dai nostri studi tra ore straordinarie possiamo vedere anche nel video guarda ti saluto un po' di gente che ti scrive laura valeria una ragazza che ha scritto con questa piango sempre no non piangere ridi sorridi con noi esatto non piangere magari piange laura perché forse ci sente cantare però è bello sapere che suscita delle emozioni commozione eccetera io personalmente ho usato sempre la musica degli altri molto spesso molto più spesso per piangere che per sorridere a volte è come prendere una medicina sai che per me è così ma anche solo anche non cantata a volte anche solo proprio suonata musicale i pezzi per esempio anche di morricone sono emozionante ti aprono veramente dei cassetti nel cuore e più sono giù e più mi struggo nelle cose anch'io ma allora siamo un po' masochisti ma sono dello scorpione sagittario so che tu ami l'oroscopo io amo ragazzi ma tu come scorpione accendente sagittario quindi sagittario sei un po' che ti piace vivere un po' anche la tua libertà però nello stesso tempo scorpione sei un po' maiale guarda questa ancora non me l'aveva detto nessuno ma è un bel complimento che metto in tasca e me lo tengo come una medaglietta oddio l'ho detto per ridere ma in realtà lo scorpione è uno dei segni forse il segno più passionale mi sta scrivendo la fidanzata che si chiama paola tra l'altro brava ah è vero mi ha detto chiedi come si chiama il cagnolino di laura lila lila che è lilla il colore lilla in spagnolo ah bellissimo perché per te la spagna comunque no l'ha scelto paola perché noi i primi cinque anni della nostra vita l'abbiamo vissuti a Miami perché io conducevo un programma lì di tv e quindi lei andava a scuola lì e la sua maestra a Miami ci sono tanti latini anche se in classe ovviamente parlavano in inglese parlava sempre di questa lila 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 che era il cane della maestra e lei mi ha detto mamma voglio cagnolino voglio chiamare lila e quindi insomma lei un po' parla lo spagnolo però è madrelingua inglese più che italiana quindi adesso ogni tanto la sgrido e gli dico qui bisogna sapere il romagnolo io l'ho fatta nascere a Bologna io sono venuta apposta sì sì ho sentito scusami ricordati che sei nata a Bologna esatto ma scusa no non vogliamo perdere la radice emiliana romagnole ma stiamo scherzando domande serie allora io volevo sapere siccome Laura comunque canta in cinque lingue nella tua carriera cantando in tutte queste lingue meravigliose a livello proprio di interpretazione sì ti sei sentita differente magari da altre cantanti italiane che hanno soltanto la linea nostra perché lo spagnolo in un modo il portoghese è così dolce non si è mai pensato questa cosa qua il francese poi è sensuale al massimo sì però la mia lingua preferita è il brasiliano che non è esattamente il portoghese sì è il brasiliano e poi vabbè l'italiano e lo spagnolo secondo me sono stupendi il francese è un po' più difficile l'inglese è quello che noi degli anni 90 abbiamo sempre visto come punto di riferimento musicale quindi abbiamo avuto chi fa il mio mestiere ha un po' di odio e amore sull'inglese perché sai benissimo che su certe canzoni ci sono delle sonorità verbali che ti fanno innamorare ancora di più della canzone però nella sostanza lo vai a tradurre raramente ci sono pochi artisti è vero che aiuta a cantare in inglese perché sono parole tronche cioè più fra virgolette facile è più facile sul pop è un po' più facile scrivere però è anche più noioso perché non ci sono tante coniugazioni come sappiamo la grammatica è molto più semplice quindi ecco per esempio questa la solitudine che esiste anche in inglese si chiama loneliness e mi hanno tolto Marco no ma perché in inglese è dopo te lo dico da dire perché non si può un sacrilegio adesso la sentiamo beh ma cantatela a questo punto allora io ci parlo Laura davanti allo specchio da quando 30 anni fa lei cantata continua a cantarla ogni volta mi si riapre quell'anno il 1993 dove da lì veramente la tua vita è cambiata letteralmente e stai percorrendo proprio adesso dopo 30 anni tutti gli step perché stai facendo le interviste radiofoniche stai andando nei anzi hai fatto prima i teatri proprio il 27 poi ci sono i paichi e di questo insomma vogliamo concentrarci adesso nel senso che il 30 di giugno il primo e il 2 di luglio sarai in piazza San Marco a Venezia e poi invece il 21 e il 22 luglio in piazza Espagna in Sviglia ah olè sì guarda io ho cantato veramente in tantissimi posti in Italia nei primi anni sono andata ovunque anzi uno dei primi concerti che ho fatto nelle piazze in Italia nel primo tour l'ho fatto con il vostro capo perché era lui Gianni Gianni mi ha organizzato Gianni mi ha fatto il primo concerto a Modena mi ricordo perché Radio Bruno porta tanta fortuna esatto e beh sì volevo proprio fare una storia un racconto vedrete piano piano perché sarà un non finirà questo festeggiamento diciamo così alla fine del 2023 perché il mio primo disco in spagnolo è uscito nel 94 quindi diciamo che da quel momento inizia un altro trentennale quindi sarà quasi per quasi due anni saremo in giro per il mondo e ci saranno piano piano delle cose che escono ma che ricorderanno in qualche maniera a volte anche poetica quello che ho vissuto il primo anno della mia carriera e questo è uno degli esempi hai detto bene perché la prima tappa l'abbiamo fatta il 27 febbraio nei tre teatri che abbiamo nelle 24 ore da passi la prossimo step è appunto piazza San Marco dove non ero mai stata io non sono mai stata a cantare a Venezia ci sei stata in gita ci ha suonato qualcuno come i Pink Floyd esatto i tuoi preferiti tra l'altro non vogliamo neanche paragonare però ci si sprova sai perché lo farò nelle piazze perché il mio primo tour solo nel 93 io ho fatto le piazze in Italia dopodichè ho cominciato con i Palasport e quindi da dicembre inizia il vero e proprio tour mondiale che inizia da Rimini quindi faccio prima l'Italia però sarà tutta nei Palasport fino adesso abbiamo annunciato fino ad aprile 2024 dove andare oltre ma quel progetto col pulmino con il quale hai cominciato lo sai sì perché in realtà è lì si farà non si farà ma non è previsto perché però però un'idea però si devono preparare perché io dal nulla ogni tanto arrivo con delle idee allora spiega spiega perché io lo sono accennato allora io penso che questa cosa mi arrivi proprio dal piano bar perché io con mio babbo andavo in giro col furgone quindi dietro c'erano gli strumenti noi due davanti lui ovviamente guidava ogni tanto facevo i compiti sul furgone però vabbè prima di realizzare questo giro in 24 ore tra New York Madrid e Milano la prima idea era partire dal sud dell'Italia con un furgoncino che diciamo poteva ricordare quell'idea che aveva avuto Baglioni ah sì era un pullman grande dove che si apriva e dentro c'era la band io volevo fare una versione più acustica più piccola che passava in 30 case da nord a sud di 30 indirizzi dei soci del mio fan club però senza dirglielo ma che sorpresa meravigliosa suonavo e in ogni casa facevo una canzone iniziavo dal 93 per finire nel 2023 con l'ultima canzone magari non so dove a Bolzano ecco da nord a sud ma lo sai che per assurdo non l'abbiamo fatto perché non riuscivo a farlo in 24 ore tante canzoni ma ci credo in 24 ore vai da New York a Milano però non puoi fare questa cosa in questi giorni come mai prima devo dire mi sono arrivati un sacco di messaggi di conoscenti e sconosciuti che mi pregavano in ginocchio di poter venire in radio per conoscere e io ho risposto a tutti preparati perché magari Laura può passare da casa tua suonando il citofono non si sa mai secondo me perché io questa cosa ce l'ho da un po' di anni quindi prima o poi la faccio allora come avete capito Laura Posini è vita vita pura e non a caso adesso ascoltiamo Vivimi grazie fino all'ultima nota avrai apprezzato ho apprezzato il nostro lavoro canzone scritta da un tuo grandissimo amico Biagio Antonacci il video in quel di Venezia dove sarà il 30 di giugno il 1 o il 2 di luglio tutto torna ragazzi Laura non puoi cavartela così cioè nel senso Venezia e Siviglia saranno delle date speciali rispetto e differenti ma tipo a Venezia non so ci sarà un'orchestra a Siviglia omaggerai la Carrà ci devi dire qualcosa no guarda non vi dico niente no dai no perché non puoi in questi giorni allora il palco di Venezia e di Siviglia sarà uguale ma solo per questi due eventi ma il contenuto musicale e visual lo stiamo creando in questi giorni tipo di notte perché praticamente ormai sono in giro per tutta Italia è molto interessante perché scoprire per esempio anche che ogni città nelle piazze in particolar modo ha delle limitazioni eh certo tipo alcune cose non si possono utilizzare perché nella piazza non si possono bamboliera ma guarda anche in Spagna io vorrei fare che questi due concerti fossero vorrei che fossero uguali quindi non voglio mettere un effetto speciale in Spagna e non in Italia dunque sto facendo una selezione e poi gireremo delle cose visual apposta per queste due città la formazione dei musicisti oppure dei altri personaggi che ci possono essere sul palco la stiamo definendo che siamo proprio adesso nel pieno di questa parte creativa brillano i tuoi occhi che forse è la più bella sì sì mi piace un sacco ogni tanto mi fa anche molto incassare perché quando io mi vengono delle idee magari scopro che c'è non so una nuova cosa tecnologica che può la vorrei usare dico rinuncio al guadagno di tot date però vorrei quell'oggetto particolare non si può perché non si può montare in tutte le piazze o in tutti i palaspare sport e io non amo anzi litigo sempre perché non è che posso fare uno spettacolo a Milano e poi a Eboli è diverso ma è da fastidio solo che i palaspare italiani come ben sapete non sono costruiti per noi musicisti quindi ogni volta che dobbiamo andare a presentare uno spettacolo o rinuncio a tutto perché tipo a Firenze è difficile a Eboli difficile a Roma è difficilissimo non entra quasi niente cioè nelle altesse sono diverse mamma mia a me questa cosa mi fa impassire ma è anche un motivo di sfida capito cioè devo trovarlo un modo che mi piaccia tutto ed entri dappertutto nello stesso modo ci riuscirò? certo non lo so però ci proverò se ti impunti in una cosa secondo me ci riesci ci riesci molto bene da 30 anni fai così continuerai speriamo per raggiungere certi livelli bisogna essere volitivi ci vuole rompere rompere bisogna rompere le palle bisogna rompere le palle in studio mentre cantavi nel 93 qualcosa di curioso d'altro che ti sia successo magari anche dal vivo o situazioni imbarazzanti sentivo in questi giorni un podcast con delle interviste vecchie a Gaber che raccontava che lui agli inizi della carriera apriva i concerti di Mina e dice ero sul palco c'era il palcoscenico chiuso e il pubblico urlava Mina Mina poi si apriva e c'ero io ha detto cosa succedeva no dice ce l'ho fatta però era di via ogni tanto era difficile beh devo dire lui era molto concentrato nel messaggio e nel tipo di scrittura che era proprio molto lontano da quello di Mina perché lei era molto concentrata sulla vocalità ancora più difficile esatto ancora più difficile a te cos'è successo? allora a me di questo genere non mi sembra che mi sia successo niente però mi è successo mi sono successe varie cose mi è successo che la prima volta che sono andata in Messico vorrei diciamo di ricordare che parliamo del 94 quindi non c'erano i social e ancora dovevi andare nell'enciclopedia a vedere alcune cose tipiche e culturali di ogni paese sfogliare la Treccani ho visto che scusa apri e chiudo la parete sei sulla Treccani e non è una cosa da tutti e cosa c'è scritto? c'è scritto Pausini Laura cantante e non siete in molti c'è Ligabù il cantante c'è anche il pittore c'è il zucchero c'è Vasco c'è Antonacci e ci sei tu scusa ma siamo tutti qua della zona sarà un caso scusa mi fa molto piacere saperlo non lo ricordavo non lo sapevo invece quando sono andata in Messico la prima volta era il 2 novembre quindi sono andata sono entrata in questo programma televisivo è partita la canzone se fu se fu il perfume e mentre cantavo attorno a me arrivavano degli scheletri degli scheletri aiuto si che ballavano perché era la festa de los muertes si il 5 de maio no quello il 5 de maio novembre il 2 di novembre il 2 di novembre come da noi il giorno dei morti però nessuno mi aveva spiegato che da loro non si fa come da noi no certo cioè per loro è una festa per ricordarli quando qualche anno fa ho visto che era uscito nei cinema il film Coco si ho portato subito Paola perché a parte ci sono andata io la Cortellesi Paola e sua figlia che sono migliori amiche tra di loro come noi io e Paola Cortellesi in lacrime dall'inizio alla fine le due bambine così scioccate perché non capivano bene erano ancora piccoline quando è uscito però la cosa che mi è successa strana è che quando ho finito ho finito la canzone accerchiata da questi scheletri il presentatore mi ha detto e tu per chi sei felice che sia morto e io non è giusto io ho detto ma io non sono felice che sia morto poi ero piccola non parlavo benissimo in spagnolo mi vergognavo ma che mi ha chiesto quindi sono uscita sono andata fuori e ho detto babbo mi hanno detto che devo essere felice per qualcuno che è morto io non capisco cosa succede insomma poi è molto interessante quando viaggi nel mondo scoprire che ogni nazione ha il suo modo di reagire a tante cose diverse dalle più profonde alle più leggere diciamo e a volte noi italiani siamo un po' chiusi io lo ero anch'io quando ero più piccola nel accettare le diversità del loro modo proprio di esprimersi o per esempio i primi anni che mi chiamavano dal Messico mi dicevano Laura la tua canzone è la sigla della telenovela dico oh madonna che schifo cioè invece mi hanno detto Laura ma questa è una cosa grandiosa per il nostro paese davvero pensavo che fosse una cosa negativa qualche anno fa ero in vacanza in Messico e il tassista mi ha fatto tutta la tua biografia in spagnolo io un po' ho capito un po' ho fatto finta di capire e intanto ascoltavamo tutte le tue canzoni in spagnolo ancora è successo in Olanda in Olanda è stata la prima nazione fuori dall'Italia che mi ha aperto le porte e lì in Europa tranne che in Spagna io canto in italiano comunque il Messico è nel mio cuore cioè il Messico è in trent'anni ho cominciato a viaggiare tante volte lì io mi sono proprio innamorata dei messicani sono delle persone molto speciali anche perché culturalmente mi hanno insegnato delle cose nuove e diverse e mi hanno aperto gli occhi e il cuore allora su questa dichiarazione un attimo prendiamo una pausa e poi continueremo a parlare con Laura Pausini grazie tra te il mare Laura Pausini 19.48 Laura Pausini è qua nostra ospite stiamo facendo una chiacchierata meravigliosa grazie e abbiamo in questo momento il tuo vinile eccolo lì allora buon inizio buon inizio in spagnolo un buon inizio la copertina frontale ha un bicchiere che si rompe sull'asfalto su queste strisce che sono il simbolo di questo tuo nuovo lavoro sì e nel retro invece c'è la canzone che insomma è stata la promessa d'amore del tuo matrimonio tra te e Paolo scritta in collaborazione anche con Nicola Agliardi che non sapeva allora intanto vi dico una cosa che non ho mai detto credo il vinile normalmente esce insieme al singolo digitale nello stesso giorno invece questo disco no perché la canzone nel lato B appunto che si chiama davanti a noi che sono le promesse del nostro matrimonio il mio e di Paolo non potevo farla ascoltare alla casa discografica se no capivano perché l'ultima parte della canzone dice in salute e in malattia è proprio la frase si svelava quindi gli abbiamo detto alla casa discografica che ovviamente quando l'ha saputo è stata contenta ma all'inizio era abbastanza incassatella gli abbiamo detto che non ero riuscita a finire in tempo per poter stampare il vinile la canzone del lato B e loro hanno detto ma questa è impassita come non ha finito in tempo cioè con tutto il tempo che avrà avuto in questi anni niente quindi l'ho fatto slittare apposta di due settimane in modo che potesse uscire il giorno del nostro matrimonio ma il fatto che il vinile sia tira fuori il disco è rosso bellissimo ma c'è anche trasparenza quelli che ci seguono in tv per radio lo raccontiamo è rosso ecco questo che abbiamo qui noi poi c'è la versione trasparente se riesco sì sì è bellissimo è molto molto arrivo eh ci siamo ci siamo meglio così guarda va benissimo va bene comunque si vede che il vinile è rosso esatto esiste rosso e trasparente mi hanno detto perché adesso sono diventati anche oggetti da collezione sì sì vedo che li sto firmando tanti e alle stesse persone ne hanno due vi dico ma perché uno lo metto in cornice sì perché li voglio tutti e due di tutti i colori ma mi sembra tanta roba però vabbè però per queste strisce pedonali io non ci credo che a sola rolo che ti fanno tutti per te qualsiasi cosa tu faccia non hanno stampato delle strisce pedonali apposta rosso nere magari per fare le foto per diventare un simile guarda mio babbo mi ha detto che adesso noi stiamo ristrutturando il fan club che è la casa dove ho vissuto con i miei genitori fino a dopo Sanremo ed è diventato il fan club da quel momento la stiamo ristrutturando per farla diventare il museo e visto che i fan in questi anni quando venivano nella sede del fan club lì dentro ci sono tutti i manichini con la giacca di Sanremo la giacca dei Grammy tutte queste cose qua e ci sono tutti i premi quindi hanno sempre chiesto di avere un luogo loro proprio più museo che casa quindi lo stiamo ristrutturando e mi ha detto ieri mio babbo che ci sono le strisce di fianco mi ha detto è vero conferma non conferma è come nel film è come nel film quando siete in piscina parla solo tua mamma ma guarda ti posso dire una cosa mia mamma normalmente non parla mai lì si sono rivaltate le parole sì perché lui come me mio babbo quel signore là che adesso voi non vedete dice di no è del toro come me ascendente scorpione come me proprio tutto uguale babbo veramente è una cosa di una pesantezza inutile però quando eri piccola che cantavi con il babbo in quel di Bologna c'era un avventore molto importante che mangiava sempre in quel ristorante che ha fatto il tifo per te è stato il tuo primo fan sì Lucio Dalla esatto questo è un ricordo che mi fa veramente venire le lacrime di felicità ovviamente Lucio è stato veniva a mangiare quasi tutte le sere perché il ristorante che purtroppo non c'è più a Bologna Napoleone praticamente era il ristorante del dopo teatro del dopo cinema dei dopo concerti quindi era probabilmente l'unico che rimaneva aperto fino a tardi e tante persone venivano lì mentre noi facevamo piano bar lo faceva principalmente lui io avevo un piccolo spazio gli facevo i cori in alcuni momenti però Lucio mi venne a dire un giorno io ti sto guardando da un po' e vorrei sapere ma vai fuori vai a spaccare il culo ai passeri ma cosa fai ancora qui è sempre stato molto carino con noi anche con mio babbo era molto legato devo dire perché poi alla fine tra musicisti non è quando ti incontri anch'io quando vado nei ristoranti e incontro qualcuno che sta facendo piano bar io mi sento uguale cioè non è che c'è una gerarchia di famoso o meno famoso cioè siamo tutti una famiglia capito quindi Lucio ha sempre trattato così mio babbo e anche me e poi avevo conosciuto anche lì Luca Carboni venivano tanti famosi io mi vergognavo tantissimo per questo motivo però l'autografo di Vasco che è venuto una sera il primo autografo di Eros perché poi ne ho chiesti altri anche quando ero già famosa a Eros e poi va beh ma se facciamo la lista di quelli che hai incontrato da Stiga Pavarotti no no ma no ma dico dentro da Napoleone dicevo dal ristorante perché era strano comunque così piccola incontrare mentre canti cioè te sei lì che fai piano bar e viene dentro gente famosa e dopo eri già fermata era un'altra cosa certo Bologna non è è una città piena di cantautori quindi è stato bellissimo comunque e poi tra l'altro mi sono ritrovata nel 93 in gara con Bracco di Graci che erano i giovani con me che ricordi e io l'avevo conosciuto da Napoleone quindi era tutto guarda c'erano delle situazioni quando ero piccola pazzesche pazzesche torniamo però a Sanremo in un anno nel 94 insomma dove sei arrivata terza con questa strepitosa canzone sì poi quel palco mette sempre tanta emozione molta io non sono molto in grado di reggerlo devo dire la verità mi manca sempre la saliva vuol dire che sei fatto i carne e ossa come tutti sì sì questo è sicuro più carne che ossa tra l'altro emozionarsi è bello e vabbè ci siamo emozionati nel 94 Laura Pausini questo è lo stereotipo esatto si chi ci mette troppo pathos no ma a me questa canzone io sono fortunata perché a me le mie canzoni vecchie mi piacciono ti emozioni ancora sì sì mi piace cantarle ecco ti stavo chiedendo quando risenti le cose una volta o quando ti rivedi nei video rivedi è diverso che risentire è diverso allora risentire mi piace mi piace anche se ci sono dei suoni che adesso sono passati perché l'attualità ci ha portato delle suonorità diverse però i video alcuni aiuto cioè tipo questo video qua l'avevo fatto a Firenze mi ricordo di Strani Morì e non è che mi è piaciuto tantissimo ecco ma ormai è fatto ma ormai è fatto poi è piaciuto al pubblico è quello che conta sì beh non lo so se gli è piaciuto perché all'epoca non si capiva ancora non è che c'era YouTube è vero non c'era sì non c'era non sapevamo ma anche per la radio così adesso hai un riscontro immediato di quel che succede è vero Laura senti ma questa giovane Laura del 93 94 se potessi incontrarla che cosa diresti sembra un po' Marzullo però sono passati tanti anni ma anche perché il finale del film restate lì una di fronte all'altra sotto i portici e e siamo noi sono sempre io era per dire non importa davvero se io credo in questa cosa quando siamo piccoli arriva un certo punto che tu sai cosa vorresti fare e che cosa ti piace in generale non solo una cosa e come vuoi andare a conquistarla questa cosa richiede allo stesso tipo di intervento di entusiasmo di passione io nel film racconto una cosa particolare tutti vogliono spiegare in questi anni come diventare famosi io volevo spiegare che come non diventare famosi fa sentire lo stesso molto felici se fai quello che è il tuo desiderio più grande o se ci metti davvero tanta passione io sarei stata comunque una guerriera anche se cantavo nel piano bar o se avessi fatto la ceramista sono sicura è il mio carattere non dipende dal fatto che sono famosa o no fare quello che ci piace è il lusso più grande veramente allora Laura non so come dirtelo te lo dico col titolo piacere di conoscere grazie grazie a te ma sai perché perché la prima volta che ci capita che l'artista che intervistiamo e tu sei un artista incredibile sapeva tutto di noi e beh io mi sono preparata ragazzi scusate ma è successo grazie io vivo tutti i giorni della mia vita parlando di me se non conosco e non studio chi sono le persone di fronte a me io non conoscerò mai nessuno perché io di me non ne posso più e quindi è questa la cosa meravigliosa di scoprire le persone che incontro anche se per poco tempo però alcune di voi rimangono davvero nel cuore grazie Laura è stato un piacere grazie grazie a voi ciao un bacio ciao a tutti ciao